E' necessario che sopravvivi in quanto fai delle pratiche a piette, perché questo è l'imbastardimento che sta venendo fuori di questa opera. E quindi io penso che noi come lista dovremmo, appunto io se la dovessi dire brutalmente la riassumerei così, i soldi ci sono, bisogna prenderle a chi ne ha troppi. Questi soldi vanno usati per lo Stato sociale, per i servizi, per i diritti sociali e per fare posti di lavoro garantendo la salvaguardia dell'ambiente. E' che in questo quadro i diritti civili e i diritti delle persone devono essere salvaguardati e potenziati al massimo perché la libertà degli individui è il punto fondamentale della convivenza civile. A me pare che questo è la vostra lista.